Musica Ulop, gruppo Liliana, il celebre negozio del centro storico di Chioggia, ha presentato un evento in store per far scoprire ai propri clienti ed amici il nuovo trend di stagione, i colori fluo. Un mondo di colori è esploso in questa primavera estate, contagiando i giovanissimi e non solo, il rosa shocking, il giallo limone, il verde acido e il blu elettrico. Il negozio Ulop, che per l'occasione è stato rivoluzionato con una scelta stilistica davvero minimal, ha aperto le porte ai suoi clienti, accogliendoli con musica, gustosi stuzzichini ed aperitivo. Solo per l'occasione è stato possibile acquistare le proposte fluo della stagione con particolari sconti. Le nuance fluorescenti accendono il look estivo, abbinarle è più semplice di quanto si possa immaginare. Le potete usare su tutti i colori, dai neutri come il sabbio o il tortura, o sul bianco nero, oppure con le tinte scure. Non solo abbigliamento, ma anche accessori, borse, gioielli, scarpe, make-up e smalti, i colori fluo sono presenti in ogni aspetto del settore moda. A confermarlo, l'esposizione di occhiali Ottica Express, che ha presentato gli occhiali coloratissimi Chanel, Dolce Gabbana e Dockley. Un altro gradito partner dell'evento è stato invece il Bello della Casa, di Sottomarina, che ha presentato le Yankee Candle e le profumazioni di Crespi. Delle belle idee per rendere la nostra casa più accogliente e profumata. Un ringraziamento speciale da parte di Gruppo Liliana anche alla Cantina Vinicola Cannella, che ha offerto a tutti il suo prodotto più famoso, il Bellini, il prodotto ideale per un bel brindisi. Scopri la moda e le tendenze della nuova stagione da Ula Hop Gruppo Liliana, la moda per lui e per lei in corso del popolo a Chioggia.